questo è digitalia ottobre con la benedizione di digitalia ci mancherebbe cambiate l'iphone quest'anno visti i prezzi anche no ma poi non c'è neanche le cuffiette insomma martedì c'è stato il keynote stati rilasciati due famiglie di prodotti interessanti prima appunto i nuovi iphone la serie iphone 12 che adesso sono tantissimi quanto sono quattro modelli diversi se non mi sbaglio si parte dal dal mini per arrivare al pro max mini normale pro e pro max arrivando se non mi sbaglio fino ai 1600 euro con certe configurazioni insomma prezzi importanti vi appassionano vi incuriosiscono vi hanno dato qualche cosa cioè l'evento apple di solito specialmente l'evento di presentazione degli iphone è un evento che è l'evento cardine passo di tutto l'anno no allora ci sono come sempre delle caratteristiche nuove come un po negli ultimi anni nulla che mi abbia sconvolto appunto per dire così ne ho bisogno una caratteristica sicuramente importante tecnologica e supporto al 5g ed è un supporto che ha fatto tanto discutere innanzitutto perché ha mostrato come gli iphone che verranno venduti in europa saranno diversi a quelli venduti in america perché supporto al 5g che esiste nei stati uniti sarà diverso e e sarà diversa quello distribuito in europa in più un diverso proprio per bande di frequenza portano anche la millimetri wave che quindi una banda bassa altissima onde millimetrali non sono sono molto corte le onde quindi molto veloce la molto alta la frequenza che può essere usata fondamentalmente se sopra ogni palazzo c'è un'antenna o quasi perché questo si è soprattutto in esterno però con caratteristiche di velocità molto molto elevate rispetto alle frequenze più basse e questo 5g c'è già chi ha iniziato a dire a chiedersi come potrà funzionare veramente perché effettivamente fa parte di una serie specifica che ancora non sono chiuse non sono complete per cui potrebbe anche essere questi iphone 5g siano pronti per le reti quando veramente diventeranno diffuse ma che magari nel frattempo le reti si adeguino anche in un altro modo quindi c'è anche un po di dubbio da questo punto di vista hanno fatto un grosso spottone a verizon a verizon è stata quasi una presentazione apple verizon hanno annunciato lo switch on della rete 5g di verizon sembrava quasi un una presentazione appunto dell'iphone verizon una roba verizon è vero anche che l'iphone era l'unico marchio di telefoni grossi che non avesse ancora il 5g perché i concorrenti comunque avevano già iniziato a far uscire i flagship a milano avete già una copertura avete già una copertura a milano è un bel po che dichiarata la copertura 5g vabbè tu hai colleghi con un telefono che supporta 5g no non ho ancora modo di sperimentarlo però normalmente milano quando ci sono queste nuove tecnologie la provano subito quindi mi sembrerebbe strano vedevo qualche video di copertura a milano e sembra che effettivamente la città sia coperta abbastanza bene su roma ancora un po macchia e leopardo però coperta ma con che qualità di servizio perché un conto è se vedi la scrittina 5g ma se poi viaggi sempre no 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 su milano almeno il video che vedevo erano con numeri di download importanti comunque almeno 4 5 volte quelli del 4g ma in generale è una palestra per queste telecomunicazioni in italia mi ricordo che quando è uscito il 4g c'è stata una grossa polemica perché sei mesi dopo che è uscito l'iphone che lo supportava di fatto in 4g a milano navigavi più più lento che nel resto d'italia perché c'erano le centraline sovraccariche non so che cacchio mi ricordo di grosse polemiche ne abbiamo parlato anche in trasmissione per cui è sì diciamo che adesso ci sono pochi utenti 5g quindi le stesse centraline sono scantabande pochi utenti ok ti comprano l'iphone vedremo 5g mag safe il grande punto di domanda ammetto che la cosa safe le sentivo proprio la mancanza no è un allora torna questo questa parola magica mag safe che per gli utenti apple ha significato il vecchio connettore del caricatore dei mac quello per cui se tiravi il filo non cadeva il computer ma attaccato col magnete per cui esatto non c'è più adesso che c'è l'usb c però c'è questo nuovo filo che si appoggia sotto e si aggancia che poi è la stesso lo stesso sistema degli degli apple watch però compatibile col col key charger esatto alla fine dei conti hanno preso la carica chi hanno detto se lo metti sul key charger non sei mai allineato non funziona mai eccetera ci mettiamo al magnete come abbiamo fatto sull'apple watch fine dei problemi una marea di una marea di accessori in qualche modo hanno 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 in qualche modo resuscitato come si chiamava air power il progetto di caricatore multiplo che era andato perché ho visto presentare una specie di charger con con i magneti dove c'è il posto per mettere il telefono quello per mettere l'orologio eccetera però avendo i magneti sai dove metterli quindi non c'è più problema di non c'è più il problema esatto a me quello che devo dire è che che mi sembra che non ecciti più sì saranno i tempi sarà che siamo sbalestrati da da dalla pandemia dai problemi dai rischi di lockdown da dover rincorrere il lavoro perso o quello che vuoi sarà che l'umore generale della popolazione per questi problemi è più basso ma l'ho visto fa uscivano veramente dei prodotti che avevano qualcosa di wow devo dire devo dire che questo discorso però lo facciamo tutti gli anni dicendo che la conferenza dell'anno prima era meglio poi in realtà in realtà la percezione dell'età dell'oro di apple io sinceramente ricordo da da quando ci sono stati keynote dell'ipad post keynote nessuno ha mai detto wow che figo se dobbiamo pagare se dobbiamo pagare di oro basta guardare il titolo e direi che non ci sono dubbi quella affare lì continua a tirare tutto il settore se il nasdaq sale apple sale di più se il nasdaq scende apple scende poco per cui alla fine dei conti dal punto di vista dell'oro cosa della del wow factor certamente io sono sono via via più 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 spento sarà che sono disilluso dalle release software dall'api che sono sempre più sì è quello io sono d'accordo con te dal punto di vista proprio dell'esperienza per me apple è diminuita molto nella sfera magica diciamo del percepito ma proprio come arrivo io come consumatore rispetto a questa conferenza per un po tante delusioni a livello di discrepanze software hardware che ho visto nel corso degli ultimi anni io seguo su twitter un certo utente che è un grande influencer che si chiama giulio cupini che mi ricordo che quando fece l'aggiornamento di s14 twittò finalmente un aggiornamento senza problemi grande tempo due giorni mi sono iniziato a trovare che quando mettevo il telefono in orizzontale mi rimaneva la dashboard a metà coprendo in mezzo browser di questo tipo dopo un po inizia anche vedere questo noto influencer giulio cupini che ha iniziato a scrivere bug di qua bug di la 13 almeno per me è stato un disastro rispetto al 13 14 quasi peggio 14 io devo dire forse fortunato su pro max l'undici non ho avuto particolari problemi se non qualche baguettino di qua di là quindi confermo il fatto sia stata stabile però essendo cliente mac io ho molti più problemi ad esempio su ipad os ipad os da quando ho fatto l'aggiornamento la smart keyboard salta i tasti una volta sì un'altra pure una roba fa no 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 carplay che tu dici investici due lire per farlo decente continua avere un sacco di problemi perché fai caricamenti non il locale deve prendere la rete appena non c'è rete rompe layout tre app sono quelle che nascono il locale e sinceramente è una società che fa tutti quei margini non te lo aspetti quindi ecco su questo sono rimasto molto più disilluso come consumatore e quindi guardo questi eventi con un po più di distacco ecco ad esempio quest'anno sono molto più curioso dell'evento mac se lo faranno che quello dell'iphone assolutamente sì certamente non c'è dubbio non so vediamo il ritorno al design del passato del disegno spigoloso a me non non dispiace a me piace la vestina blu l'idea di concetto come estetica come telefono in generale e ripensare che stiamo tornando un po in quella direzione non di design seppur aggiornata il vetro più forte questi inserti di ceramica che dovrebbero rinforzare rendendo la ceramica trasparente per chiaramente per non oscurare da nessuna angolazione però dovrebbe aumentare di molto la durabilità anti urto bisogna vedere se poi l'antiurto migliora anche l'alti che l'antigraffio o viceversa sono curioso anche di quello perché ci fosse un iphone senza case già sarebbe qualcosa e non solo manca il caricatore perché team cook si possa fare bello che risparmia sull'ambiente ma anche le cuffie nel prossimo nella prossima scatola dell'iphone 13 mancherà anche l'iphone io pensavo proprio di fare la stessa cosa introduciamo il digitale iphone esatto tu ci mandi ci mandi mila euro e noi non ti mandiamo niente prendiamo la scatola la spedizione no no perché ha detto che il packaging non mettere il caricatore e le cuffie gli permette di fare un packaging più piccolo e quindi di risparmiare anche sul carbon footprint delle spedizioni noi risparmiamo ancora di più non mandiamo neanche la scatola mandiamo in digitale ma niente 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 mandateci mila euro che noi vi mandiamo il digitale a fondo ma porca miseria e poi c'è il questo grandioso home pod mini ma no non c'è per noi no noi siamo italiani non ne abbiamo diritto quindi domani possiamo finalmente anzi da oggi possiamo accedere al nuovo canale apple music tv con tutti i video in rotazione no neanche quello siamo italiani scusa no no vabbè vado a leggere apple news no scusami sono italiano non posso farci niente con su telefono questa è questa è un'altra cosa che dico a tutti i keynote però